Come trattare e curare vene varicose? Vene gonfie, contorte, e allargate visto sotto la pelle, noto come vene varicose, possono causare dolorabilità e imbarazzo. L'indebolimento delle valvole fa sì che il sangue alla piscina, allungando la vena e facendolo sporgere attraverso la pelle. Come un bambino curioso, si potrebbe ricordare a fissare le calze spesso un maggiore di relativi ai blu, vene nodose che si trovano sotto la pelle come serpenti sconnesse. Conosciuto come vene varicose, questi vasi sanguigni, che restituiscono il sangue dalle gambe al cuore, sono in realtà un sistema più superficiale. Trattamento vene varicose. Si può scoprire quanto sia grave vene varicose e sono discutendo risultati di una ecografia con il vostro medico. Insieme, troverete le migliori opzioni di trattamento per il vostro caso specifico. Questi possono includere Scleroterapia Questo è un trattamento iniezione salina in dolore che collassa la vena in modo che possa poi essere riassorbito nel flusso sanguigno. Raccomanda generalmente scleroterapia per le piccole e medie vene varicose. Tipi di scleroterapia per il trattamento di vene varicose includono Laser assistita, meno invasiva e più avanzata Scleroterapia con schiuma, per i più grandi, le vene più difficile to treat E ecoguidata scleroterapia, per i grandi, vene profonde che una volta richiesto il trattamento chirurgico. Il vantaggio di scleroterapia è che può eliminare le vene varicose senza dolore o tempi morti. Lo svantaggio è che la tecnica non può funzionare per più ampi, vene varicose più grandi. Si può anche avere a tornare indietro per i trattamenti di follow-up in modo che vene a scomparire del tutto. Flebectomia Chiamato anche la vena stripping, questa è una procedura chirurgica durante la quale il chirurgo fa piccoli tagli vicino alla vena danneggiata e rimuove l'intera vena. I medici a volte si flebectomia insieme ad altre procedure, come ad esempio l'ablazione. Il vantaggio principale di flebectomia è che si tratta di un trattamento permanente perché la vena colpita è completamente rimosso, il dot Gasparis dice. Ma come ogni procedura chirurgica, si tratta con alcuni rischi e richiede più tempo di recupero rispetto ai metodi meno invasivi di trattamento vene varicose. Ablazione termica Chiamato anche ablazione a radiofrequenza, ablazione termica, che è stato intorno per circa un decennio, comporta l'uso di laser o radiofrequenza energia per riscaldare l'interno della vena. Ablazione termica tende a funzionare bene come trattamento vene varicose, dice, ma può causare un po' lividi e disagio per la prima settimana. Vene di solito diventano meno visibili entro una o due settimane. La procedura richiede alcuna anestesia locale. Ma la maggior parte delle persone hanno poco dolore dopo la procedura e possono tornare alle loro normali attività. Ablazione non termica, è fondamentalmente la stessa di ablazione termica, ma invece di calore, si usa un potente farmaco che distrugge la vena più in modo permanente. Il secondo trattamento di ablazione non termico per le vene varicose, chiamato il sistema venaselle, utilizza una colla per spegnere la vena. Trattamento vene varicose. Le vene varicose non sempre hanno bisogno di cure. Se le vene varicose non stanno causando disagio, potrebbe non essere necessario avere un trattamento. Il trattamento delle vene varicose è di solito necessario. Per alleviare i sintomi, se le vene varicose si stanno causando dolore o disagio. Per il trattamento di complicanze, come ulcere, gonfiore o alterazione del colore della pelle. Per ragioni estetiche, ma questo tipo di trattamento è raramente disponibile sull'NHS, quindi dovrete solito si devono pagare per essere fatto in privato. Se il trattamento è necessario, il medico può raccomandare prima fino a sei mesi di cura di sé in casa, tra cui Con calze a compressione Fare esercizio fisico regolare Evitando in piedi per lunghi periodi Elevando la zona interessata durante il riposo Calze di compressione Calze a compressione sono appositamente progettati per spremere costantemente le gambe per migliorare la circolazione Essi sono spesso stretti alla caviglia e ottenere via via più libera come vanno più in alto la gamba Questo incoraggia sangue di fluire verso l'alto verso il cuore Indossare calze a compressione Se calze a compressione stanno causando la pelle sulle gambe a diventare secca Provate ad applicare una crema idratante, emolliente, prima di andare a letto per mantenere la pelle umida Prendersi cura di calze a compressione Calze a compressione devono essere lavati a mano in acqua tiepida e asciugate lontano dal calore diretto Ablazione endotermici Uno dei primi trattamenti offerti solito sarà ablazione endotermico Questo comporta l'uso di energia sia dalle onde radio ad alta frequenza, radiofrequenza, o laser, trattamento laser endovenosa, per sigillare le vene colpite Ablazione co-radiofrequenza Ablazione co-radiofrequenza comporta il riscaldamento della parete della vostra vene varicose utilizzando energia a radiofrequenza La vena si accede attraverso un piccolo taglio fatto appena sopra o sotto il ginocchio Trattamento laser endovenoso Trattamento laser endovenoso implica avere un catetere inserito in vena e l'utilizzo di una ecografia per guidare nella posizione corretta Un piccolo laser viene fatto passare attraverso il catetere posizionato nella parte superiore del vostro vene varicose Scleroterapia con schiuma ecoguidata Questo trattamento consiste nell'iniettare schiuma speciale nelle vene La schiuma cicatrici delle vene, che sigilla lì chiuse Questo tipo di trattamento può non essere adatto se si è precedentemente avuto trombosi venosa profonda La scleroterapia può anche causare effetti collaterali, tra cui Coaguli di sangue nelle vene delle gambe e altre Mal di testa Mal di schiena lombare Modifiche al colore della pelle, per esempio, macchie marroni su dove le vene trattate erano Svenimento Problemi di vista temporanei Chirurgia Chirurgia delle vene varicose è di solito effettuata in anestesia generale, il che significa che sarà privo di sensi durante la procedura Legatura e stripping Un sottile filo flessibile viene fatto passare attraverso la parte inferiore della vena e poi accuratamente estratto e rimosso attraverso il taglio inferiore della gamba Creme e pillole Se calze a compressione non sono il viale per voi, si potrebbe provare una crema over tea counter cui ingredienti includono i rimedi a base di erbe di circolazione come estratto di calendula, noto per le sue capacità anti-infiammatorie, e la vitamina E Sottile filo flessibile